buonasera complimenti massimiliano marionti il resto del carlino a breccia ci hai riprovato oggi è andata bene sì buonasera sì a breccia ha fatto una gran parata al portiere oggi ci ho riprovato e fortunatamente è andata bene dai sono contento come hai visto tutta la partita cioè il primo tempo il secondo tempo la seconda con la panchina e se hai iniziato a capire un po' l'ambiente ascoli la tifoseria il calore del pubblico perché sulla fine partita anche tu hai scorsi sotto la cosa che come ti stai trovando perché non abbiamo mai parlato fino ad ora quindi tra l'altro adesso io sapevamo sapevamo che era una battaglia oggi perché comunque il crotone secondo me è una buonissima squadra purtroppo sì la classifica non è bellissima però ha giocatori forti e sicuramente sapevamo che era una battaglia oggi abbiamo fatto un po' fatica loro comunque erano chiusi partivano magari sui nostri errori fortunatamente dopo siamo riusciti a bloccarlo alla fine con l'aiuto del pubblico a portare a casa questi tre punti che per noi oggi erano fondamentali dovevamo riscattare sicuramente breccia e io qua ad ascoli ho trovato un ambiente sicuramente molto molto caloroso lo sapevo già perché comunque passato avevo giocato contro venire da duca comunque è sempre sempre una bella essere sempre così comunque sempre un bel ambiente per giocare quindi sapevo cosa cosa trovavo e niente sono sono contento penso che dobbiamo continuare su questa strada qua e mi allaccio anche alle parole che ho sentito del mister e noi dobbiamo pensare adesso a lecce è il nostro nostro prossimo obiettivo e dobbiamo concentrarci su lecce complimenti per il gol è uno schema approvato nel senso la tua posizione sul tiro da banderina doveva essere in quella perché non è la prima volta che l'aspirà la conclusione sulle ripartute degli avversari su azioni da corda si loro avevano il castello facevano il castello nei corner quindi comunque noi da fuori una destra una sinistra doveva essere in quella posizione lì fortunatamente è andata bene comunque si doveva eravamo provato e fuori fuori dall'aria qualcuno ci doveva essere per chiudere l'azione o comunque come è andata a far gol